Una buona giornata a tutti voi e soprattutto buon inizio settimana cari telespettatori di Fano TV Ben ritrovati a Occhio ai giornali che come sempre vi apre la giornata alle 7.30 del mattino con le repliche fino alle 8.30, poi alle 9.10 e 13.30 Cominciamo dal Santo del Giorno, oggi è un santo italiano, il Beato Giacomo Cusmano, sacerdote nacque a Palermo nel 1834, il sole è sorto alle 6.22, tramonterà alle 18.22 Vediamo il tempo, allora per oggi avremo, per oggi lunedì 14, avremo un cielo inizialmente nuvoloso con schierite durante la mattinata sulla fascia costiera ed in graduale estensione al resto del territorio nel pomeriggio con deboli piovaschi, nevosi fino a mille metri sulle zone interne Per domani, martedì 15 marzo, invece cielo sereno poco nuvoloso con aumento delle nuove stratificate dal pomeriggio sera, le temperature sono in diminuzione Poi il peggioramento arriverà nelle giornate di mercoledì, mercoledì 16 e giovedì 17 seguito però da un generale miglioramento per il resto della settimana E adesso andiamo a leggere i giornali, cominciamo dal resto del Carlino Ecco il titolo, il re è pronto, Valentino Rossi, arriva al paddock di Talacchio assediato dai tifosi, esibizioni di drifting con il padre, l'amico Uccio e alcuni campioni poi il saluto, domenica comincia il moto mondiale e questa è la prima pagina del resto del Carlino di Pesaro Poi come vedremo tra un attimo, nelle pagine interne, gli ospedali che tornano in trincea pochi medici, quelli disponibili, parte la denuncia, un dottore solo per tre reparti il sindaco di Pergola chiama i carabinieri alle 11 di sera Poi leggeremo tra un istante anche la pagina dedicata ad Alessandro Carloni Regista Urbinate che ha conquistato Hollywood con il suo Kung Fu Panda numero 3 Allora entriamo nelle pagine interne del giornale e appunto partiamo dalla cronaca con la pagina di Fano e Provincia Addio a Leandro, addio a Leandro, campione vero Ricordato il calciatore deceduto in un incidente Solidarietà umana è stata espressa venerdì sera in un incontro al ristorante di Marotta per la recente e tragica scomparsa del calciatore argentino Leandro Temporini di 40 anni che aveva giocato per molti anni anche nella nostra regione tra cui a Mondolfo e poi da Urbagna vedete il funerale nel giorno del suo compleanno Matilde Sacchi, questa anziana signora che vedete nella fotografia avrebbe compiuto 101 anni ha lasciato ieri questo mondo terreno praticamente nel giorno del suo 101esimo compleanno è nata a Fermignano il 14 marzo del 1915 residente però a Durbagna nella frazione di Campiresi e quindi se non ci fosse stato l'anno bisestile dice il figlio Mario avrebbe compiuto 101 anni invece per un giorno non c'è riuscita questa è la pagina di Fano e Urbino ma parla Lucia Annibali a pagina 7 del resto del Carlino amo il mio viso più di prima Lucia ospite del Rotaria Macerata ripercorre la sua strada oggi sono, dice Lucia Annibali un'altra persona, non so bene chi ma certo sono più consapevole e forte tra l'altro è di ieri la notizia che la RAI, RAI 1, produrrà un film sulla storia di questo avvocato pesarese che è ormai diventata la storia simbolo se vogliamo simbolo anche per le donne provincia la violazione del patto di stabilità è assurda sarà cancellata il presidente della provincia di Pesurbino Tagliolini spiega i cartellini rossi la provincia non ha mantenuto la parola con i vincoli europei sforando il cosiddetto patto di stabilità per tre volte ma ora ci scrive Tagliolini scrive il resto del Carlino e spiega il perché spiega il perché di questi cartellini rossi poi migranti migranti in arrivo sei nuovi sportelli nuovi servizi un investimento di 22 mila euro parla Massimo Grandicelli lo vedete nella fotografia nel territorio provinciale ci sono 32.576 immigrati dei quali 5.199 disoccupati serve un maggior numero di mediatori culturali l'altra pagina dicevamo di questo regista urbinato urbinatte mister Carloni così chiaramente viene chiamato all'estero papà di Kung Fu Panda disegno sogni dice lui a Hollywood a 38 anni pensate viene da Urbino il regista del Colossal della DreamWorks che è la casa appunto produttrice e Carloni mister Carloni lo vedete nella fotografia a Los Angeles con il pupazza del Panda Po e sotto un passeggio per Urbino con il padre Giancarlo lo vedete ecco qui meglio nella fotografia questo è il padre del regista per le vie di Urbino mio padre Giancarlo animatore viene dalla prima scuola italiana di Cartoon quindi insomma un figlio d'arte possiamo definirlo proprio così allora adesso andiamo invece a vedere il scusate il Corriere Adriatico perché dicevamo lo abbiamo visto nel titolo sulla prima pagina del Carlino il sindaco di Pergola Baldelli Francesco Baldelli ha chiamato alle 11 di sera i carabinieri sabato notte e trova il servizio sguarnito in ospedale praticamente in tutta la struttura c'era soltanto un dottore la postazione del 118 nel turno notturno dalle 20 di sabato fino alle 8 di domenica è rimasta sguarnita del medico è successo all'ospedale Santi Carlo e Donnino di Pergola e la reazione del sindaco Baldelli alla gravissima situazione non si è fatta attendere qui il Carlino scusate il Corriere parla di mezzanotte poco importa comunque ora più ora meno si è recato Baldelli in ospedale con l'assessore Castratori e con il capogruppo Antonio Baldelli e poi insomma tutta la sfidza di nome che ci interessano niente alla fine ha chiamato il 112 il 112 che sono i carabinieri che sono arrivati raccogliendo le dichiarazioni dei presenti che hanno confermato appunto la situazione così mettono a rischio dice Baldelli la vita dei cittadini la regione deve ripristinare il pronto soccorso di Pergola Fosso Seggiore invece l'ospedale che verrà Ceriscioli ritiri l'atto spedale unico l'onorevole Ricciatti critica la regione per aver scavalcato i comuni e quindi da una da manforte se vogliamo anche al sindaco di Fano Massimo Serie che ha criticato tanto questa delibera di giunta regionale nella quale appunto viene inserito alla chetichella un po' così questo nome del sito Fosso Seggiore senza dire niente a nessuno poi andiamo sull'altra pagina del Corriere Adriatico quella di Fano alberghi chiusi anche a Pasqua quelli stagionali non hanno il riscaldamento pensate come stiamo messi informazioni ma niente prenotazioni dunque le festività pasquali si avvicinano ma gli alberghi stagionali non apriranno per l'occasione infatti la Pasqua molto anticipata rispetto agli anni scorsi quindi ancora diciamo tardo inverno e quindi non hanno non avendo i riscaldamenti è inutile aprire perché metterebbero i clienti al freddo e al gelo e quindi la festività anticipata vede il lungomare disadorno senza la sistemazione dell'arredo del verde insomma questa è la città a vocazione turistica che tanto promuoviamo ma purtroppo con tante ancora lacune e tanti ancora punti da sistemare anche nelle Marche si fa buona ricerca invece l'altro articolo che troverete sulla pagina di Fano del Corriere i cervelli che non sono in fuga il fanese Federico Guerra ha un incarico alla clinica di cardiologia di Ancona e poi come sempre nel periodo di Cianfrusaglia in scena le compagnie dialettali fanesi questa volta sul palco ci sono i comediante con questa commedia che si intitola Pareventanza La Gracia da oggi a mercoledì alle 21.15 al Politeama c'è appunto questa compagnia la regia di Lucertini con l'aiuto di Romiti poi tutto l'elenco degli attori un cast come sempre divertentissimo che farà sicuramente ridere e sorridere l'altra pagina quella di Pesaro del Corriere invece Spunta Valentino il pubblico va in delirio grande spettacolo al rally drift show di Talacchio il campione sfida il padre Graziano Rossi l'appuntamento del team RCM qualificato dalla presenza di 82 piloti di tutta Italia a sostegno a Ivan Cottini l'ex modello o comunque modello che è malato di sclerosi sapete ormai la sua battaglia alle gare di due giorni si registrano pensate 10.000 spettatori in questa fotografia lo vedete con Palmiro Ucchielli a sinistra Valentino Rossi al centro e Nicola Costantini e poi sotto invece lo start del circuito a Talacchio sempre in provincia di Pesaro il Foglia sarà messo in sicurezza il fiume il capannone si votano al terziario finanziato il progetto della vasca di espansione stop agli allagamenti poi Ricci gli auguri del sindaco all'Arzilla centenaria Lina la vedete in questa fotografia è vero che la nostra regione in particolare la provincia di Pesorbino ma la regione Marche è la regione più longeva d'Italia io quando vado anche fuori ne parlo dico guardate che nelle Marche si sta bene c'è un paesaggio meraviglioso si vive bene si campa a lungo cento anni infatti anche qui la signora che ci ha lasciato a cento un'anni ma questa qui invece Lina Sabattini ieri con il sindaco Matteo Ricci ne ha compiuti cento faceva l'ambulante e quindi insomma ha voluto essere presente anche il sindaco per festeggiare questa nonnina questa sua concittadina di cento anni a Senigallia invece spacciava cocaina arrestato un pizzaiolo si tratta di un quarantenne che è finito nei guai la droga era nascosta nel locale specializzato nel take away prende e porta via la polizia aveva notato questi tossicodipendenti un gruppo di ragazzini che entravano senza uscire con il cartone il cartone dove teoricamente doveva esserci il cibo il take away in realtà questi entravano ma uscivano senza niente e quindi lì la polizia si è insospettita sequestrati 30 grammi di polvere bianca già divisi in confezioni e una bilancina elettronica poi ancora dai giornali chiudiamo la rassegna con le ultime tre pagine del messaggero allora la sanità intanto in apertura sul quotidiano romano sanità caos esposti e denunce niente medico del 118 di notte a Pergola il sindaco chiama i carabinieri in un clima politico in fibrillazione si riunisce la conferenza dell'area vasta a centro pagine invece la fotografia per quanto riguarda il basket lo sport Sassari cade all'arena Adriatic di Pesaro la VL doma i campioni la VL doma i campioni d'Italia di Sassari nella foto c'è questo campione poi i ladri i ladri a colpi di mazza alla stazione di servizio nella notte furti anche in appartamenti e nei centri sociali è accaduto praticamente a colpi di mazza hanno distrutto il gabbiotto del distributore dell'Oil One sull'interquartiere è successo nella notte a cavallo tra sabato e domenica caratterizzata a Pesaro da altre scorribande notturne e da razzie furti nelle case furti nelle automobili nei centri sociali addirittura insomma i danni il bottino più serio però questa volta alla moderna stazione di servizio di via Pertini che è ubicata appunto lungo l'interquartiere poi Valentino si diverte a rally con il papà Rossi successo organizzato a Talacchio con uno speciale super ospite e poi sopra vedete si parla del concerto di Claudio Baglioni e di Gianni Morandi un concertone che ci sarà a Pesaro da tutto esaurito la città che cambia via Letire Este sempre a Pesaro alla Baia sarà una pasqua di cantieri e poi le pagine interne eccola qua sempre i lavori per prepararsi i preparativi per l'estate pesarese con questa gru che risistema la facciata di quest'albergo sotto invece il treno verde treno verde tappa pesarese per lottare contro chi inquina e l'ultima pagina eccola qua sulla sanità sanità in sobbuglio il sindaco di Pergola chiama il 112 mentre a Fano l'area Ricciatti l'onorevole sta con seri via quella delibera l'ipotesi dell'ospedale unico fosse sei ore non può essere praticabile è tutto per la rassegna stampa Occhio giornale torna domani mattina alle 7.30 puntuale noi invece ci vediamo questa sera nel TG delle 20.30 sempre qui sul canale 17 di Fano TV ricordo i nostri naviganti quelli che stanno su internet che attraverso lo smartphone seguono in diretta costantemente le nostre notizie che stiamo trasferendo tutto il portale di Occhio la Notizia su un altro server quindi già da sabato sera e quindi anche tutta la giornata di ieri domenica presumo anche oggi ci sarà questo possibile di servizio o comunque qualche rallentamento perché stiamo potenziando il portale di Occhio la Notizia ci stiamo trasferendo su un altro server un server molto potente che servirà per evitare i blackout che solitamente avvengono quando pubblichiamo notizie di importanza di grande importanza solitamente quando c'erano tanti accessi purtroppo il sito andava in tilt perché eravate in tanti a voler vedere quella notizia e allora abbiamo cambiato server in questi giorni in queste ore dateci ancora qualche la giornata di oggi come test per chiudere bene tutta la faccenda poi da domani sicuramente tutto sarà in ordine Occhio alla notizia punto it grazie per averci seguito arrivederci a domani grazie a tutti